Ciao a tutti! Oggi faremo pilla! Certo, fammi vedere. Sono sotto bicchieri o sono andata a attaccare all'albero? Sotto bicchieri? Non si possono attaccare all'albero? No! E noi li abbiamo attaccati da su però. Dove? Questa che ha fatto Isabel, dell'omiglio di Pampepato. Avessimo avuto un marrone più chiaro se avessimo stato meglio. Poi c'è questa, il candy finto, il pacchetto di Natale. Questa stella di Natale. Come abbiamo fatto a farla questa stella? Prima la mamma ti ha fatto il bianco, vero? Sì! E poi con tanta pazienza hai messo il rosso. Invece questa chi l'ha fatto? Guarda che carino! Ha fatto un mini elfo! Gli elfi? Hanno fatto il selfie? Si sono fatti se stessi. Dopo li stiriamo e vediamo come è venuto bene. Noi siamo organizzatissimi, vedete? Mettiamo sempre la pistola nei vari contenitori. Poi quando le usiamo le mettiamo nelle ciotterine del sushi. In modo che non ci siano mescolamenti. Ora anche se è vacanza la mamma deve accendere il ferro da stilo. Ci servirà solo il caldo della piastra, senza vapore. Della carta da forno, un pozzettino. E ovviamente le nostre cose da stirare. Qua già sopra si passa un secondo, controllando non schiacciare troppo. Quando sono fusi si gira dal latte, si prende un altro pezzo di carta torna e si ripassa dall'altra. Lasciamola affrontare e vediamo come è venuto. E' nato, è nato l'elfo? Sì, guarda che carino. Guarda che belli anche tutti gli altri. Adesso mettiamo nei commenti le foto per farsi gli schemi di questi, così uno può copiarli. E possono diventare sottobecchieri oppure anche si possono attaccare sull'albero. Vedi? Io ci ho messo il ciondolino su questo qui. Esatto, lo appendiamo uno qui, poi lo appendiamo uno qui, poi appendiamo anche quello della Isabel e anche il nostro babbo natale. Il candy cane, la renna e per finire il nostro elfo. Ciao elfo, ciao a tutti!